VITAMOZUO VITAMOZUO Una volta che abbiamo tutti questi requisiti andiamo tramite ovviamente Franklin in storia Quindi ce ne andiamo direttamente in storia Una volta arrivati in storia ragazzolo dobbiamo andare su partita, carica partita E dobbiamo andare a caricare il salvataggio moddato Ok? Quindi io ovviamente vi taglio la clip del tutto caricamento per la storia Direttamente al 90% Una volta che respawniamo, respawniamo con Michael Ci troveremo nella storia, nella scuola di volo Dobbiamo andare su impostazioni, andare su comandi e mettere mira assistita parziale Ok? Molto importante A questo punto ragazzuoli se vi riesce questo messaggio rifiutatelo Ok? Mi raccomando rifiutate il messaggio Dopodiché facciamo doppio tasto PS Partecipiamo da Anawak A questo punto dobbiamo fare primo messaggio X Secondo cerchio Perfetto Adesso possiamo salire le scale Possiamo andare sulla scuola di volo Sul pallino giallo se vi arriva una chiamata rifiutatela E premiamo freccia destra Ragazzuoli fate attenzione a questa parte Partirà adesso la missione o comunque la prima scuola di volo che si chiama decollo Appena parte dovete fare attenzione al video Quindi facciamo partire decollo Schippiamo il filmato con X A questo punto ci troviamo in questa posizione Facciamo scorrere il conto alla rovescia Dopodiché ragazzuoli su questa parte dobbiamo fare doppio tasto PS Aspettare il recupero e tagliare la sessione Primo messaggio X Sul secondo messaggio aspettate 5 secondi Praticamente a fine di questo suono dovete fare cerchio e option subito Cerchio e option Dovete rimanere in questa visuale Se rimanete in questa visuale avete fatto il timing perfettamente A questo punto dovete fare option online Quindi gioca GT online sessione solo a inviti E lasciate caricare questa parte Ok? A questo punto ragazzuoli Una volta che si caricherà questa parte Fate 3 volte frecce in su per andare su paracadutismo E rimanete su questa sezione Ok? Una volta arrivati nell'online Fate option online Attività Avviattività Create da Rockstar Missioni E avviate un lavoro da titano Perfetto Qua non toccate più nada de nada Mi raccomando Non dovete toccare nada Perché se no ovviamente non vi esce nada Ok? Quindi confermiamo le impostazioni E ci mettiamo su gioca Perfetto A questo punto ragazzuoli aspettiamo che carica tutta la missione ovviamente del lavoro da titano Fino a quando non va via anche la scritta del lavoro da titano Quindi aspettiamo qualche secondo Appena va via facciamo cerchio e X Perfetto Una volta che usciremo Spawneremo di nuovo all'aeroporto Saremo sempre nella missione di un lavoro da titano Questa volta però saremo ovviamente già con il logo Quindi completamente invisibili Ora questo qua ce lo andiamo a salvare in un'ambunation Una volta arrivati appunto all'ammunation Andiamo ovviamente nella sezione dei completi Premiamo freccia destra E lo mettiamo in uno slot nostro vuoto E questo qua sarà il nostro magic slot Adesso vi faccio vedere appunto come funziona Quindi una volta salvato basterà selezionare un outfit qualsiasi vostro Dopodiché il magic slot E come per magia ovviamente vi metterà i loghi sul vostro outfit Lo potete fare con qualsiasi outfit Io lo provo anche su un altro outfit che avevo così a caso Quindi selezioniamo un outfit Dopodiché dobbiamo selezionare il magic slot E come vedete mi mette i loghi su qualsiasi outfit Lo provo per l'ennesima volta ancora su un altro outfit Ad esempio su questo qua Magic slot Ok? E mi passa tutti quanti i loghi come vedete Ovviamente ragazzuoli lo provo anche sull'ultimo Per farvi vedere che ovviamente lo possiamo fare con tutti gli outfit Mi raccomando Approfittatene di questo metodo perché è molto carino Ci sono tanti tanti loghi da cui poter salvare Ragazzuoli è piaciuto questo video? Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video Bella! Oggi ci vediamo al prossimo video Grazie! Grazie.